Ciao a tutti e a tutti, finalmente sono libera, sono in montagna, nei boschi, sui sentieri e mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa, cosa di cui avevo tantissimo bisogno e so benissimo quanto vi siete impegnati tutti nella campagna per la mia liberazione e apprezzo tantissimo sto ricevendo tantissime richieste e inviti e purtroppo non riesco sempre a rispondere e a essere presente come vorrei e devo dirvi comunque che il carcere prima e poi tutta l'attenzione mediatica e le centrifughe di Bruxelles e di Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie e adesso ho bisogno di un attimo di raccoglimento prima di tornare a combattere con più determinazione di prima però vi dico intanto che già da settembre sicuramente avremo occasione di incontrarci e di dare anche la giusta importanza e il giusto spazio a questi incontri vi saluto con tantissimo affetto e mando la mia solidarietà e un pensiero particolare a Maya che in questo momento si trova ancora nel fondo del pozzo